E a Rio de Janeiro torna lo spettacolo del carnevale dopo lo stop per la pandemia. Scuole di samba, spettacolo, voglia di ripartire a Rio de Janeiro, torna il carnevale dopo la pausa forzata durata due anni a causa del covid. Elena De Vincenzo. Decorazioni ultraterrene per divinità in carne ed ossa tra principi di ghiaccio e regine, elefanti bianchi e giravolte verde e oro. C'è il groviglio ordinato di colori e maschere, di musica e balli, tamburi e sceneggiate e c'è un po' di nostalgia perché questo è il carnevale di Rio. Il messaggio è per le persone che non ci sono più a causa del covid e che fanno parte della storia del nostro carnevale. Sfilano le scuole di samba, sugli spalti si balla, ironia e celebrazioni, fluo e glitter, piume e sculture viventi. C'è persino un po' di 700 veneziano. Migliaia di persone, un unico flusso. Bellezza, a ritmo di samba, per celebrare la vita. Indubi e giorni. B dividend, bianchi. Per awisting, dawa, giorni. Biadow di paura di Milano, giorni. Per awisting, insieme. Già! Grazie a tutti.